Bentornati su Beaspazio Miniature, oggi andiamo a vedere un velocissimo unboxing di questa nuova espansione per Kill Team, la nuova edizione. Innanzitutto un grosso ringraziamento ad Smonofattoria che come al solito ci ha fatto avere una copia da poter farvi vedere sul canale. Innanzitutto diciamo che si tratta di un'espansione quindi non è adatta per chi cerca un prodotto per iniziare, infatti all'interno non è contenuto il manuale, nei righelli, nelle barricate, nei segnalini, in tutto e per tutto un'espansione, infatti all'interno si andrà a trovare un Fireteam di Tau Pathfinder con tre droni e un Fireteam di Adeptus Sororitas. Due squadre fantastiche, penso due squadre che tenevo d'occhio da tantissimo tempo quindi vederle nella stessa box mi ha subito convinto che dovevamo avere una copia. Gli scenici altrettanto belli sono gli stessi che erano stati proposti nella prima edizione, non proprio la prima ma comunque la scorsa edizione, nello starter box, si tratta appunto di Terreni Sector Imperialis. Molto molto belli, magari non funzionalissimi, soprattutto questo pezzo enorme si gestisce un po' male però forse in questa edizione è un pochino meglio. Ci sono un sacco di questi piccoli rovine che sono molto utili per le coperture. si tratta di un box studiato per avere due squadre completamente asimmetriche perché appunto i Tau sono una squadra da tiro e le Adeptus Sororitas sono completamente da corpo a corpo. Io ho il sospetto vivissimo che le novizie muoiano come mosche di fronte alla potenza di fuoco dei Tau perché Tau stiamo parlando di tutti equipaggiati con armi che fanno danno 4 o 5 quindi nel momento in cui entrano le sorelle hanno tra le 7 e le 8 ferite quindi la vedo dura. Ma bando alle ciance andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. La scatola è come si intuisce leggermente più piccola e di fattura diversa dal setto Octarius che non è quindi la classica scatola rigida a cui ci hanno abituato ma è un cartone più soft più morbido. Ecco qua come al solito un sacco di plastica. Mettiamo un attimo da parte le miniature e vediamo un attimo le varie sprue del Sector Imperialis. Bellissime piene di dettagli. Gli scenici sono veramente troppo alti forse per essere ben giocati in Kill Team ma come sappiamo Game Workshop ricicla scenici che ha già per il 40.000 quindi questi sono perfetti per i 40.000. Sarà necessario probabilmente tutto un intero movimento per salire. Ora io non l'ho misurati ma penso siano 5 pollici. Sono molto interessante la possibilità di montare. Avevo un amico che aveva il vecchio starter set e aveva assemblato appunto gli edifici grandi senza i pezzi di sopra e li aveva magnetizzati in maniera che poteva staccare i pezzi di sopra e usarli come piccole rovine come sono le altre come sono queste qui che sono sia da montare sopra che da tenere separate. Quindi quella probabilmente è una cosa che farò per recuperare ulteriori coperture. Come dicevo sprue sempre molto bella. Un sacco di pezzettini da assemblare per questo Sector Imperialis. Non vedo sinceramente l'ora. probabilmente anche io li farò come nella scatola rossi e non come appunto nella vecchia edizione che avevano quel corolino tipo skeleton bon o comunque un grigio, un grigino. Ecco per quanto riguarda le miniature le vorrei lasciare un attimo da parte per farvele vedere insieme alle istruzioni di montaggio. qui sotto ovviamente nascosto dal bellissimo artwork delle sorelle con i tower. Abbiamo ovviamente le vasette come al solito, più grandi e più piccole. Le vasette trasparenti per i droni che sono tre con i relativi sostegni. Non vedo la terza ma sicuramente qui sotto. Le due sono qua e poi abbiamo la plancia di gioco. Ecco la terza vasetta trasparente e trasferibili come al solito per chi li utilizzasse. Io difficilmente lo faccio per mancanza di tempo ma abbelliscono moltissimo le nostre miniature. Plancia è sempre il formato stampato che abbiamo visto anche in Octarius ma comunque nelle precedenti edizioni. A differenza di Octarius qui non hanno fatto il solito errore di stampare la solita cosa da entrambi i lati. Ve lo vi faccio vedere. A questo giro abbiamo due lati diversi anche per un po' di variabilità all'occhio che non guasta. Quindi c'è un colore più scuro e un colore leggermente più chiaro. In camera non rende benissimo l'idea. La texture è leggermente leggermente diversa. Sono sempre le rovine del sector imperialis. Qui ci sono meno rovine. Sono più interrate. Quindi almeno questa ottima scelta rispetto appunto alla volta precedente con Octarius. Quindi abbiamo visto anche questo. Ora veniamo alle cose veramente interessanti. Ora io l'ho già scartato per potergli dare un'occhiata. Per quanto riguarda le miniature. Allora per quanto riguarda i tau io ho già dato un'occhiatina. Innanzitutto si tratta della solita identica sprue che trovate nella scatola dei tau pathfinder che sta a 32,50 euro sul sito della game workshop. Ed è esattamente la solita. Quindi ci potete assemblare il solito team. Però in aggiunta game workshop ha messo un modello in più. Un modello in più. Questa opzione in più. Comunque non mi sembra niente di particolare a parte i piedi appunto diversi che sono appoggiati e qualche qualche cosina che forse non c'è di qua. Ma non credo perché il medico comunque lo si poteva assemblare anche prima. Quindi non credo. Ma di fatto con molta semplicità io ho guardato e come lo andrei ad assemblare è esattamente così come indicato qui in questa pagina devo essere sincero. E secondo me appunto modello indispensabile il drone da ricognizione che da una parte limita un attimino la scelta perché se selezioni il drone da ricognizione se non sbaglio devi prendere 10 modelli e non 12 esatto. 2 4 6 8 10 12 quindi devi per forza sacrificare qualcos'altro. Però ecco questo ovviamente lo assemblerei come opzione. Poi ci sono un drone da attacco e uno da difesa quindi scudo e scudo e come lo chiamano arma drone e arma. Poi sicuramente assemblerei i due esploratori d'armi e due esperti d'armi e il medico decisamente che non fa mai male il questo come lo chiamano il granadiere o il granatiere d'assalto che ha le granate gratuite ne usare due di per tipo che è assolutamente utile. Ovviamente il leader lo devi assemblare per forza. Nell'esploratore tiratore scelto e l'esploratore disturbatore transpettrale. Uno potrebbe eventualmente ha l'esploratore insanguinato è lui. E poi eccolo qua l'esploratore transpettrale, il disturbatore transpettrale che spara attraverso i muri se non sbaglio. E dopodiché qui non l'hanno messo però potrebbe essere da considerare l'idea di avere assolutamente l'esploratore pilota di droni magari sostituendo uno di questi normali sono gli shashla. Secondo me si potrebbe sacrificare uno di questi due per fare l'esploratore pilota di droni. Perché appunto la cosa buona di questo kit è che si possono assemblare quasi tutte le combinazioni disponibili. Cosa non altrettanto vera invece per la detta sororitas purtroppo che soffrono un po' dello stesso problema delle guardie veterane nel kit nella scatola di Octarius. Ovvero che ce ne vorrebbero due per poter fare tutte le varie combinazioni. Però ecco io ci ho riflettuto e devo dire che anche in questo caso mi sentirei a riconsigliare di riprodurre quello che c'è qua come per avere un po' tutte le opzioni. L'unica cosa che mi scoccia veramente tanto è che tra le combinazioni qua non c'è la novizia come è che la chiamano purgatus che ha lanciafiamme che fa il lanciafiamme non ce lo metti io ce l'avrei messo sinceramente non ce l'hanno messo e non saprei sinceramente quale modello sacrificare perché essendo appunto una squadra totalmente da corpo a corpo non c'è realmente uno di questi modelli che uno si potrebbe sentire di tirare via al posto per mettere la purgatus potrebbe essere questa qua che la chiamano la novizia dialogus che fa sarmoni per togliere punti azioni no per peggiorare la caratteristica balistica dei nemici che potrebbe essere utile contro contro il tau appunto quindi non saprei neanche probabilmente potrei uno potrebbe magnetizzarne una per vedere come gioca poi sul campo magari decidere se togliere lei o no però appunto lei con la frusta non la si può togliere perché è utile perché spinge 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 l'altra la l'esattora che spinge la allora l'esattora l'esattor spinge la penitente la penitente la penitente la penitente è quella con la spadona la spadona sega questa qua che è è tremenda fa dei danni incredibili e quindi non si può non giocare anche perché combatte due volte praticamente tutte le volte che fa azione combattere ne può fare un ulteriore senza malus quindi è stratosferica secondo me e non si può non giocare lei non si può non giocare perché è l'unica che spara a distanza hanno tutte le pistole requiem la superiore andrebbe montata così quindi col fucile al plasma perché è devastante e poi la cosa grande è che con un cp tutte possono praticamente sparare con gittata illimitata mentre normalmente essendo pistole sparano a pentagono quindi io le monterei così per non saperne leggerne scrivere ma con appunto rimorso di non aver montato lanciafiamme però ecco almeno che uno non decida di magnetizzare una di queste ma non saprei davvero che sacrificare perché lei con le reliquie ti fa fare la gli obiettivi gratuitamente quindi secondo me è importante questa con com'è che la chiamano reliquarius è chiamato lei reliquia invece si chiamava la pronatus pronatus fa fare le attivazioni gratuite degli obiettivi la reliquia e la reliquarius invece ispira gli altri pianta l'icona però se non sbaglio ecco questa era forte è che quando un'amica viene neutralizzata al 4 o più fa fare gli fa fare sparare gratuito prima di morire e in più con lo standard appunto può praticamente vince quasi sempre se gli obiettivi sono contesi quindi secondo me va montato così c'è poco da dire quindi questo è un po' tutto è un po' tutto il quanto per quanto riguarda il manualino contenuto nella scatola come al solito trovate un sacco di background non mi fa impazzire come è scritto ma probabilmente è dovuto al fatto che ho la versione italiana e le traduzioni sono sempre un po' così un po' meno quindi qui si parla del sistema vedic o vedic che si trova ai margini dell'universo conosciuto controllato dall'imperium che è sull'orlo della catastrofe economica le persone soffrono la fame non c'è più commercio eccetera eccetera i tau sono subentrati per cercare di corrompere la classe politica per diffondere la cultura del bene superiore contro l'imperium contro appunto il controllo dell'imperatore e la gente ci sta cascando ma quando a un certo punto appare una nave piena di sorelle novizie che vanno a riportare l'ordine spazzano via gran parte dei tau che si erano intrufolati nella società di questo sistema e loro si rendono conto che ovviamente credendo nell'imperatore sanno che sono state mandate lì per una ragione quindi ne fanno una cosa personale di sterminare tutti i tau e riportare l'equilibrio nel sistema quindi come al solito ganzissima la narrazione la parte che mi piace di più non è tanto questa che racconta delle zone di guerra o delle varie fazioni o che parla nello specifico delle due fazioni perché è un po' ridondante, un po' caotica però mi piace particolarmente quando ci sono queste storie qui che sono veramente ganzissime durano poco purtroppo perché sono appunto tre paginine perché poi sotto il resto è background appunto altisonante e ridondante come al solito ci sono le OPTAT di fazione quindi gli obiettivi secondari di fazione che sono appunto importanti se si gioca la campagna narrativa perché le OP spec sono calibrate su queste OPTAT e appunto i due kill team gli adeptus e sororita sanno gli atti di fede come abilità ganzissimi perché praticamente partono con tre punti e ci sono vari modi per fare altri punti quindi punto fede durante la partita quindi ad esempio ammazzando qualcuno o facendo un obiettivo e gli atti di fede si possono spendere generalmente uno per attivazione ma dipende per fare cose del tipo salvo un colpo automatico salvo un critico automatico mantengo il risultato di tiro automatico oppure crea una copertura insomma molto ganso molto ganso varie esperienti drastici strategiche appunto dicevo uno molto importante è quello che cambia la cittata delle armi proiettili scientificati aumentano il danno delle armi che non fa mai male guardiani della fede che fa sparare o combattere gratuitamente però costa 2 CP quindi la vedo la vedo un po' dura che si riesca a usare e poi c'è un esperiente strategico appunto tutto sulla purgatus questo mi fa ancora più dispiacere del fatto che non si possa montare per mancanza di modelli che le fa fare inferno 2 ecco inferno è un'altra caratteristica particolare che praticamente dai fuoco alla miniatura che hai colpito e se inferno 1 o 2 o quello che è ma mi pare c'è massimo 2 alla fine del turno tiri un dado e ad ogni 4 più gli fa una ferita mortale quindi è un'interessante in realtà però purtroppo ripeto non so come fare a montarla e niente mentre i tau sono abbastanza quelli che conosciamo da da sempre con il loro tracciatore e il protocollo di salvezza con i droni che possono prendere i colpi al posto dei pathfinder o comunque insomma delle miniature tau i droni hanno questa intelligenza artificiale che però può essere modificata se uno ha il pilota dei droni quindi probabilmente sarebbe utile averlo e appunto il tracciante è molto interessante ma questo già non è una novità insomma lo si conosce quindi ogni volta che si mette un segnalino tracciante man mano che si cumulano hanno degli effetti devastanti sul tiro e appunto dicevo io più che li leggo è più che mi sembrano parecchio tosti non lo so non lo so già temo perché appunto li giocherà il mio amico io giocherò l'adeptus sororitas e la vedo dura che riesca a sfangarla contro le mille mila armi potenti che hanno colpiscono qua al 4 è vero però appunto col tracciante è la cosa migliore e poi sparano anche più di una volta quindi può essere comunque sicuramente una squadra divertente da giocare appunto ci sono appunto i soliti equipaggiamenti rari risorse strategiche e onori militari dedicati alle fazioni tra l'altro apro una parentesi sulla campagna narrativa secondo me io ho continuato a rileggerle perché volevamo iniziare la campagna secondo me le OP spec sono un tantino sproporzionate cioè ci vogliono molte partite per poter ottenere un encomio quindi fare le cose, le ganze che si possono fare quando progredisci nella campagna e quindi minimo ci vuole 6-7 partite più quelle 6-7 partite però devi anche completarle con determinate condizioni quindi possono essere più di 7-8 partite per poi ottenere alcune cose ma cosette quindi per ora l'abbiamo messa un po' da parte le OP spec e mi dispiace molto perché le requisizioni quindi con i punti requisizioni gli equipaggiamenti rari, le risorse strategiche sono molto carine, molto caratterizzanti, molto narrative quindi non lo so, probabilmente studieremo un modo per ridurre il numero di partite necessarie per prendere punti requisizioni però potrebbe cozzare con il discorso degli onori militari perché alcune requisizioni si attivano solo se hai progredito fino a un certo punto con gli onori militari quindi i tuoi personaggi a cui poi assegni certe cose siano arrivati a un certo livello di rango in questa killzone ci sono alcune novità appunto che sono la porte, le porte praticamente come se non ci fossero cioè quando ci si avvicina si può passare attraverso come se non ci fossero i portelli che si possono anche questi attraversare come se non ci fossero però sempre che bisogna arrampicarsi almeno che uno non vabbia a volare ma cosa devastante queste posizioni sopraelevate vantaggiose che sono veramente devastanti innanzitutto ci si arriva pagando solo due, dice qua, due cerchi anziché tre perché dovresti arrotondare per eccesso arrampicandoti invece no, ti scontano anche un cerchio per andarci sopra anziché farti soffrire per andarci e in più quando spari dalla posizione sopraelevata che già appunto sei lì, quindi sei un cecchino, ti sei ben piazzato no, non basta come vantaggio ma puoi trattenere uno dei dadi ancora prima di tirarlo come un successo automatico così, a gratis, dice io ho colpito e se ti sparano mentre sei sulla posizione sopraelevata a gratis puoi tenere un successo sulla difesa quindi a me sembra chiaramente a vantaggio dei tau poi mi sbaglierò, probabilmente sono debolissimi secondo loro ma metti sopra un cecchino dei tau è devastante spara al 2, letale al 5, due o tre ferite mortali può stare nascosto, non lo vedi, cioè no, secondo me questo è sbagliato però si starà a vedere quando si prova e poi niente ci sono le missioni ci sono le varie missioni con gli scenici prestabiliti con i bonus per la campagna narrativa se uno lo sta giocando ecco questa è la parte che preferisco di questi librini che stanno producendo insieme a queste scatole secondo me appunto nell'ottica di avvicinare il gioco da tavolo in sé al gioco di miniature l'ideale appunto è che le persone non si debbano scervellare inventare missioni che non si debbano scervellare su come disporre gli scenici quindi come per Octario secondo me è un'idea molto molto carina quella di andare a dire ai giocatori mettete gli scenici così perché già è bilanciato o non è bilanciata abbiamo visto che ci sono alcune missioni che sono totalmente a favore di una fazione piuttosto che dell'altra in funzione se uno gioca attaccante o difensore non ve lo so dire in antice perché lo dobbiamo provare ovviamente però ripeto secondo me questa è una delle cose più interessanti delle missioni che si trovano sui librini cioè che ti danno gli scenici e dice giocali così diciamo non si può sbagliare probabilmente anche sono privo di fantasia però secondo me è un'idea molto interessante in generale anche di questo vi ho detto tutto non vi ho fatto magari vedere le sprue delle Adeptus Sororitas anche se appunto le trovate sul sito della Game Workshop sono come peritao due sprue grandi e una piccola inutile dire che sono belle perché insomma le miniature della Game Workshop sono sempre molto belle e io con questo vi saluto grazie di avermi seguito fin qui spero sia stato utile ci rivediamo quando giochiamo un battle report di questa espansione ringrazio ancora Smonofattore per aver contribuito e ci vediamo al prossimo video ciao